Buongiorno fiorellini e fiorelline pure oggi iniziamo un altro video Oggi ho campiato tè, ieri ho preso sempre il meligrano, oggi ho preso la pesca E ho tè alla pesca, sentiamo come è, c'è l'ho quella meligrano ancora però volevo cambiarlo, lo sa già quest'altro tè E vabbè è nuvoloso, a me quanto è nuvoloso mi mette un po' di tristezza, non lo so E vabbè, comunque vediamo un po', vediamo un po', sempre quattro fette biscottate Sempre queste cose qua Allora, tiriamo giù la fotocamera Dopo devo andare a lavare la macchina Non vedo se faccio un video ma non lo so perché la lavo la macchina Se la lavo la macchina devo andare a prendere le medicine del guerrino Che ho preso ieri si dà il maneggio Da dottore, sentite un po' Beh, sempre quale Non lo so E vabbè Guardate, quattro fette biscottate, sempre quale Oggi a pranzo dovrei mangiare un formaggio e voglio vedere che formaggio posso mangiare Perché non ce l'ho, ma il formaggio Allora la canalla appia pure il formaggio Poi si sta avvicinando il primo che vado dalla dottorezza a pesarmi Comunque ieri non riguardavo che Su commenti c'è scritto senza zucchero Poi così E c'è scritto senza zucchero Beh, ci sta anche Prendo il caffè Tutto quanto senza zucchero Non è perché Non è che mi piace tanto Non è che mi piace tanto Non è tutto quello però È tutta questione d'abitudine Adesso ho 11 giorni Io ho fatto fatta di età Vabbè Vabbè Piano piano si fai Piano 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 Mi dimagrirò Vedete Senti È la pesca Non so se si vede di Caffurra a Caffurra io trovo tutto quello che ma tante le buffa sta fettacciutata ah beh pure più dura oggi impacco sempre quello la mattina mi mette sempre in pigiama perché mi alzo e faccio colazione subito poi dopo mi vesto a Caffurra 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 perché se no vanno a male, allora l'ho dato una guarina a una Rachele perché sono andata a fruttarolo ieri però l'ho presa troppo immature e devi mangiarle subito se no si rovinano tutte ok c'è il ventilatore qua che mi girava, quella che stava in fondo fa caldo hai già mangiato? che vuole? queste si spappolano buona oggi niente spuntino ho fatto stamattina no quando vado in giro mia figlia ha detto perché ho la faccia lucida? no altre volte metti una crema? no da quando faccio la dieta sto diventando la faccia lucida va bene finisco questa banana e ci vediamo ora di cena ciao ecco fiorellini fiorelline mi sono tagliato i capelli sembra non mi sono tagliato non mi sono tagliato invece sono gli capelli legati così fa caldissimo è ora di cena ecco c'è l'insalato con due citerline di olio d'oliva so vergin e 250 grammi di pesce quello dell'altra volta non me ricordo come si chiama e 60 grammi di pane ok la prima cosa mangiamo la cosa che non mi piace l'insalata perché a me di salata mi piace le fagioreンessi sono buone i funghi mi dovrei comprare qua devo vedere che verdura di stagione c'è allora manciamo di salata più buono questo olio l'olio extravergine d'oliva l'olio extravergine d'oliva quelli un po' mischiati come nel negozio buono ok mangio oggi è più buona insalata questo olio mangio e poi ritorno ciao ecco ho finito questo era più buona oggi con l'olio proprio d'oliva extravergine e adesso prendiamo il pane e mangiamo i pezzi ora li mangio il pezzi e fra tre giorni no a me non piace mi piace l'insalata mi piace l'insalata ha detto puerito lei mangia poco lei mangia l'insalata guarda che io ho comprato io l'ho mangiato a pranzo però il mio era senza lattosio questo è normale buono questa è la più buona secondo me ok non mangio il pezzi e poi ritorno ti salutiamo ciao fioreline fioreline abbiamo finito da mangiare la pelle è lucida mi hanno detto ma io non mi metto né crema né niente forse il cibo perfetto ma mi fa così stasera non vi perdete il video perché stasera c'è un video che vi racconto una cosa che mi ha detto il mio dottore che adesso registrerò e domani uscirà però voglio vedere stasera perché io registro sempre il giorno prima e spero che vi è piaciuto e che vi ho fatto compagnia soprattutto e grazie alle persone che mi commenteranno che mi hanno già commentato o mi commenteranno e grazie a tutti quanti che mi date tanto sostegno per questa cosa sembra che ho tutti i capelli mia invece c'è la cosa qua bisogna legare i capelli perché sono andata a fare le sopracciglia e faceva caldissimo e allora mi sono lecati i capelli però i capelli sono così mi piace di più slecata sempre più vecchia con i capelli lecati perché poi non mi siedono di un loro un po' così va bene comunque ciao a domani e spero che riuscirò a fare il video perché oggi sto accompagnando mia figlia che domani arriva ci sarà un altro video e vediamo se sto a terra a mangiare ancora uno spuntino ma vedo per adesso vi lascio perché è fine per questo video e ciao al prossimo video domani a mezzogiorno e non vi scordate di questa sera alle 18 ciao ciao